Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto, diciamo un nuovo mini progetto riguardante il controllo di un motore attraverso il metodo della PWM. Questo metodo è largamente utilizzato e molto conosciuto in quanto consente di regolare sia la velocità che la potenza in uscita del motore. Concettualmente è anche molto semplice da capire, ovvero viene messo in serie al nostro motore un interruttore che nel nostro caso sarà un mosfet che verrà comandato da questa PWM. Quindi che cosa succede? Succede che a seconda del duty cycle di questa PWM abbiamo che la tensione vista ai capi del nostro motore varierà in modo proporzionale. Quindi quando siamo allo 0% di duty cycle il nostro motore vedrà 0V, mentre quando siamo al 100% vedrà tutta la tensione di alimentazione che ovvero si tratterà di VCC+. Ovviamente questo comportamento, ovvero quello che il motore vedrà ai suoi capi una tensione più alta o più bassa a seconda del duty cycle, è dovuto principalmente al fatto che si comporta come un induttore. Quindi non ammettendo discontinuità di corrente ai suoi capi, fa sì che questa tensione fittizia che lui vede possa in effetti variare al variare del duty cycle. Ed è proprio perché si comporta come un induttore che saremo costretti a mettere un diodo di ricircolo perché altrimenti succederebbe che l'interruttore si distrugge. Quindi i vantaggi di questo tipo di controllo sono che, come già detto, è molto semplice e molto efficace anche. Ma c'è uno svantaggio bello grosso, ovvero che non si ha nessuna informazione sulla corrente che sta passando nel motore. E questo, fin quando si parla di potenze piccole, di motori piccoli, come quello che andrò ad utilizzare qui, è accettabile. Ma quando si parla di motori che devono erogare potenze ben superiore, nell'ordine forse dei kilowatt, questa informazione è necessaria. Quindi lo schema di controllo, la circuiteria che comanda il motore, è molto più complicata. Perché c'è utile questa informazione? Perché supponiamo che il nostro motore si blocchi, per qualche motivo l'albero non gira più perché è bloccato da una coppia troppo elevata. Quello che succede è che con questo metodo di controllo, in pratica quando il MOS si accende, va a creare dei cortocircuiti con la con la massa. Quindi avere un controllo anche della corrente è importante per capire che cosa sta facendo il motore e soprattutto è importante in quelle applicazioni dove non solo è importante regolare il numero di giri, ma è importante anche regolare la coppia del motore. Infatti con il metodo a PWM noi non abbiamo nessun controllo sulla coppia che sta erogando. Ok, passiamo adesso all'idea del progetto. Quindi a che cos'è che mi serve realizzare questa questa schedina poi? Mi serve per andare a controllare questo motore qui, che è un tipo un motore 775 che si trova generalmente nei nei trapani, negli avvitatori a batteria. Sono riuscito a recuperarlo e l'idea è quello di appunto costruire questa schedina di controllo per questo motore dove poi sull'albero andrò ad applicare questo mandrino che che ho comprato e quindi poi per interferenza andrò a inserire questo mandrino qui che mi consentirà di utilizzare vari tipi di utensile come piccole mole abrasive o dei piccoli dischi sega. Ovviamente non può essere utilizzato per effettuare lavori di forza ma per fare delle piccole rifiniture ed è uno strumentino che è davvero molto utile in un laboratorio. Quindi guardando le prossime fasi del progetto abbiamo che in questo video parlerò dello schematico e del layout della PCB mentre successivamente dopo aver assemblato il motore faremo qualche test sul suo al fondo sul dispositivo finito. Ora invece diamo un attimo uno sguardo allo schematico. Ecco qui lo schematico che ho intenzione di realizzare ovvero abbiamo qui la parte di alimentazione che controlla sia il generatore di PWM e sia attraverso questo fusibile va ad alimentare la parte di potenza che possiamo vedere si compone di questo MOSFET che è l'IRFZ44N. Qui ho rappresentato il motore come un'induttanza di 300 micro e qui abbiamo il diodo di ricircolo che è un ultra fast quindi UF4007. Mentre in parallelo a questi due nodi ho messo una capacità da un millifarad. Questa capacità è molto importante deve essere grande messa in parallelo tra questi due nodi perché questo motore andrà ad assorbire dei picchi di corrente davvero molto elevati e quindi non è possibile che se li vada a prendere direttamente dall'alimentazione quindi tutti i gavi che andranno a provocare un'induttanza parassita enorme che poi si andrà a scaricare sui capi di questo povero MOSFET quindi è necessario mettere questa grande capacità in modo da evitare che ci siano fenomeni di questo tipo ed inoltre questa capacità ora non so se le metterò due o tre in parallelo si scalderà molto proprio per queste forti forti impulsi di corrente che dovrà sopportare. Inoltre anche a livello fisico di costruzione fisica su scheda bisogna fare in modo che questa maglia sia la più corta possibile in modo da non creare il loop pericolosi perché qui scorrerà parecchia corrente. Per quanto riguarda la parte di generazione della PWM invece abbiamo che un amplificatore operazionale del package NE5532 verrà impiegato per andare a creare una massa virtuale mentre il secondo amplificatore verrà messo in modalità di generatore di onda quadra con duty variabile che è un circuito elettronico che abbiamo studiato e che quindi sappiamo perfettamente come funziona e che mi consentirà di variare il duty cycle dall'8% al 92% e quindi poi l'uscita di quest'onda quadra attraverso questa resistenza di gate andrà appunto a comandare l'accensione di questo mosfet. ecco qui invece quello che sarà il layout della schedina quindi abbiamo l'alimentazione qui tutta la parte di controllo quindi di generazione della PWM qui abbiamo i connettori del motore con infatti il di idodo di ricircolo in parallelo, il connettore del mosfet e qui la grande capacità che poi andrà appunto fra i due nodi che abbiamo visto precedentemente nel circuito. Molto bene quindi quello che ora mi rimane da fare è saldare la schedina, assemblare il motore e poi noi ci rivediamo direttamente nel prossimo video con la fase finale per effettuare i test sul dispositivo. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima!